I did all right I had no need to fight Tonight Ragazzi qui mi sono tornati al mio canale Bentornati su il mio nuovissimo video Oggi siamo qua ragazzi miei Su Modern Warfare Siamo tornati però perché siamo tornati su Modern Warfare Perché hanno messo una nuovissima modalità Infatti io Stamattina ho acceso code Ho detto vabbè andiamo a farci un partitino 20 giga di download Ma che cazzo c'è Allora ho guardato bene Vedevo che c'è nel menu C'erano più modalità da scegli Ho detto quale cavolo ho messo in più di modalità E hanno messo Ragazzi niente proprio di meno Che gioco delle armi Sono finito in modalità visore notturna Che cosa è successo ragazzi No 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 che allo Silenzio No come si fa a mutarli questi stronzi qua Aiuto Ma Ragazzi non capisco il cazzo I can't see Ma se sei cattivo Oh grazie Silenzio Sto registrando Cattivi Dove cavolo è Sono scoperto Hai un cieco Mamma mia In due mi sparavano Ma vi pare ragazzi Che c'ho una mosca sullo schermo No vabbè ragazzi Ciao io col cieco Non ce la faccio proprio Saltare Saltare gli ostacoli Sto gioco È una rottura di palle Grazie Ah Come se Che palle Stamosca Ah cambiano ogni volta Bello però regà Ogni volta cambiano Però sta mappa Fa un po' schifo Wow Ciocco delle armi Niente ragazzi Non ce la faccio A fare gli stazzetti Ah che palle Io non li voglio sentire Sti stronzi Avevo la mosca in testa Davanti Cioè proprio qua Ce l'avevo Che palle Sbaglio sempre il primo colpo Ah fangule Che cazzo è sta Questa arma Oh no il cieco È finita Oh meno male Questo cos'è La mia P7 Con quale Con quale mirino Me lo stai dicendo Bello Ah mi hanno colpito Niente Con cosa mi ha ucciso Hanno cambiato un po' l'audio Ragazzi Siccome Nell'ultima patch Perché adesso proprio Li sento i giocatori Prima non li sentivo Beh Cosa è successo No Che schifo Lanciarazzi Meno male Due hanno fatti fuori Con Lanciarazzi Ma Questa è un pompa Meno male Questa cosa è Il bizon No come fuoco Incrociato Non è matto Ok Vai 12-14 Non è vero E mori Porco due Non si vede un cazzo Madonna Santa Oh che culo Questa che arma è La UG La UG Arco due Come faccio Dai c'ho uno davanti Non ci credo Devo vincere E questo Dove cazzo Sono andato fuori Regà non li trovo Eh vabbè Tuo amare caso Orca bastarda Eh grazie M4 Diciamo che sparo Un po' a caso Niente Non trovo i nemici Non trovo i nemici Non li trovo Quando li trovo Li ammazzo Ma adesso non li trovo Impressionante Ragazzi non li trovo Ebbè è normale Che adesso trovo Quello col pompa Cazzo Non trovi i nemici E va Fan ghoul Eh scusa Boh Ok Ora così che si ragiona Devo stare agli spawn Raga Non c'ho cazzo da fare Questa modalità qua ragazzi Quando miro sparo Un po' a caso Non si vede un cazzo Ok EBR Bello Dove cazzo Sono tutti Raga Perché non trovo Mai nemici Grazie Lo sapevo Che mi stava mirando Comunque potevano farla Questa modalità qua Normale Cioè Normale Senza Senza Ste stronzate Della modalità notturna Cioè Almeno Non solo notturna Una mappa a caso Ogni tanto Cazzo Ci sarà bene a qualcuno A cui non piace Modalità notturna E però Fa impazzire il gioco Delle armi No No vabbè Vai a uccidere Mo con sta arma Due ore Per caricare Due ore Per sparare Ma che armi Nel cazzo Mettono Li dovete togliere Ste mangolate qua Che schifo Ma cos'è Quest'arma Grazie Non si capisce Un cazzo Ho perso Anche qua Oh No 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 Mamma mia Eh, l'ultima arma Come fai? È l'ultima arma Cioè, raga, se non fosse stato per quella merda Cioè, guardate Oddio, che cos'è quest'arma qui? Quasi alla fine, ne manca una Il nemico è all'ultima arma Dai, dai No, l'avevo preso Eh, va a fan cool Uccidere col coltello Boom, sì Va a fan cool Fargo lì Mamma mia Avrei vinto anche prima, raga Anche prima avrei vinto Per colpa di quel bastardo di lanciarazzi Dovete togliere quei cazzo di lanciarazzi Su sto gioco Vabbè, ragazzi, questo video finisce qua Ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento Fatemi sapere cosa ne pensate di GDA E soprattutto se è stato ancora giocando Cioè, a code, ragazzi Perché comunque Vedete, io sono livello 103 Ho perso una settimana di gioco, praticamente Perché ho giocato a Death Stranding Però mi sta piacendo un sacco Fatemi vedere con un bel commento Un mi piace Signori, qui da Gabbia Oggi di squadra è tutto Un bacione Ciao, ragazzi Ciao, ragazzi